Buon pomeriggio dalla redazione di Live, ben trovati in questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede l'ergastolo per Davide Fontana. La Corte d'Appello di Milano ha inasprito la sentenza di primo grado per l'omicidio di Carol Maltesi. In secondo grado ha aggravato la sentenza del primo. La Corte d'Appello di Milano ha infatti condannato l'ergastolo Davide Fontana, il bancario 45 anni che l'11 gennaio del 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi a Rescaldina, colpendola prima con una martellata in testa e poi sgozzandola. Il corpo della giovane mamma era stato poi abbandonato, fatto a pezzi a paline di borno in Val Camonica. Secondo quanto riferisce l'agenzia ANSA, nel processo d'appello sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e della crudeltà che nel primo grado erano invece cadute. Infatti la condanna all'epoca era stata di 30 anni. Onestamente non me l'aspettavo, nessuno ha delitto di togliere la vita in questa maniera, ha detto la zia di Carol Maltesi a L'ANSA. Ci speravamo, soprattutto dopo che la difesa stamattina ha buttato fango su mia nipote, sulla tomba. Nuova operazione di controllo interforze in stazione. Un arresto per furto in via Veneto. 150 persone, diverse recine di veicoli e 6 esercizi commerciali controllati. Sono questi i numeri di nuovi controlli ad alto impatto messi in campo martedì dalla Polizia di Stato e dai carabinieri dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Brescia nella zona della stazione. L'operazione, coordinata dalla Questura e decisa dal Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza, ha visto lavoro agenti in uniforme in borghese e le unità cinofile. Al termine, 5 persone sono state denunciate perché non in regola con il permesso di soggiorno. Due sono state espulse. Le divise hanno sequestrato inoltre 35 grammi di droga trovata dai cani in via Solferino e in un locale, per cui ora si stanno valutando ulteriori provvedimenti. Sono state infine 4 le violazioni e il codice della strada. Nella notte fra martedì e mercoledì la Polizia è stata allertata da una chiamata al 112 per un furto in corso in un ristorante di Via Veneto in città. Le volanti più vicine hanno raggiunto il luogo indicato e hanno trovato il ladro proprio mentre cercava di fuggire con alcune bottiglie di alcolici, del denaro e uno smartphone. L'autore del furto, un uomo di circa 30 anni con numerosi precedenti, è stato arrestato e condotto in questura. Ora la sua posizione al vaglio dell'ufficio emigrazione e rischia di essere espulso. Cambiamo decisamente argomento. Venerdì alle 19 in Largo Formentone si terrà una fiaccolata per Navalny. Una luce per Navalny. Anche Brescia si mobilita a seguito della morte in carcere dell'oppositore russo Alexei Navalny e lo fa con una fiaccolata organizzata dalla sezione locale di azione. Ma l'iniziativa, fanno sapere, sarà priva di qualsivoglia simbolo di appartenenza politica con l'unico obiettivo di continuare a difendere i valori della democrazia e della libertà. Al fianco di tutti quei cittadini russi che coraggiosamente si ribellano un regime che soffoca nel sangue ogni forma di dissenso. L'appuntamento è per venerdì alle 19 in Largo Formentone in centro a Brescia. L'invito per questo grido silenzioso è rivolto a tutti coloro che vorranno prendervi parte al di là degli schieramenti. Essere cittadini italiani ed europei significa lottare ogni giorno per l'affermazione dei valori della democrazia e della libertà, scrivono da Brescia in azione. La morte in carcere di Alexei Navalny non può lasciarci inermi e indifferenti. Ieri anche i gruppi consigliari in loggia del centro-destra avevano chiesto che il Consiglio organizzasse una fiaccolata e che la seduta di venerdì si aprisse con un minuto di silenzio. E dopo la fiaccolata, domenica 25, al convento di San Gaetano, si terranno delle letture per il dissidente russo. Padre Fiorenzo. Io sono stato in Russia tanti anni, missionario, e lì ho conosciuto alcuni dissidenti e ho collaborato con loro, ho partecipato alle loro azioni di coscientizzare la gente per una opposizione intelligente al regime, alla dittatura di Putin. Fra le sette vittime di Putin, una eccellente, l'ho conosciuta bene, è la celebre Anna Politkovskaya, che ha scritto articoli famosi su quanto facevano i russi soldati in Cecenia, laddove distruggevano interi villaggi massacrando la gente dei villaggi. Bene, allora noi domenica vogliamo ricordare nella Messa delle Undici, vogliamo invitare la cittadinanza alla Messa delle Undici, ricorderemo queste sette vittime del regime, e leggeremo alcune loro testimonianze, in particolare dell'Anna Politkovskaya e del grande Navalny. Siete tutti invitati ovviamente. Apriamo ora la pagina economica con i saldi invernali. Le vendite sono in calo anche a causa delle alte temperature. Il caldo scioglie i saldi. A più di un mese dall'inizio il bilancio delle vendite di fine stagione è negativo, circa 7 su 10 segnalano infatti risultati in calo rispetto allo scorso anno, con una contrazione media di oltre il 21% a livello nazionale. A lanciare l'allarme è Fismo, l'associazione delle imprese del settore moda con Fesercenti, sulla base di un soddaggio condotto anche nel Bresciano, su un panel di imprese associate. Secondo il 75% degli esercenti interrogati, il fatturato dei saldi invernali è diminuito rispetto al 2023. Per il 15% il fatturato è rimasto immutato, mentre c'è un 9% che afferma si è aumentato. Sempre rispetto al 2023 inoltre, nel periodo antecedente ai saldi invernali, il fatturato è diminuito per il 69% dei partecipanti. Oltre al caldo, pesa anche la perdita di appeal sul pubblico dell'Istituto dei Saldi. Sulle tradizionali svenite stagionali, oggi infatti gravano le tante offerte e promozioni fuori periodo, specialmente online. Una concorrenza che, secondo Confesercenti, costa 3 miliardi in vendite a livello nazionale. L'associazione torna quindi su uno dei suoi cavalli di battaglia degli ultimi anni, spostare in avanti la data dei saldi. Una larga maggioranza di esercenti ritiene che sia fondamentale per le svendite invernali e, ancora di più, per quelle estive. La Lombardia primeggia ancora per il costo delle bollette di luce e gas, nonostante la flessione del 2023. Le famiglie lombarde nel 2023 hanno speso in media 755 euro per la bolletta della luce e 968 per quella del gas, cioè rispettivamente il 34% e il 27% in meno rispetto all'anno precedente. Secondo un'analisi condotta da Facile.it, sul fronte del gas, i lombardi sono stati tra i meno fortunati d'Italia, avendo la seconda bolletta più pesante della penisola dopo il Trentino Alto Adige. Prendendo in considerazione la sola energia elettrica e analizzando i dati su base provinciale, emerge come Mantova sia stata la provincia dove le bollette sono state più pesanti. Seguono Cremona e a pari merito Varese e Brescia, entrambe aree dove sono stati messi a budget mediamente 802 euro. Anche per il gas le bollette variano a seconda dei consumi medi rilevati. Gli abitanti di Varese lo scorso anno hanno pagato il conto più salato, mentre per i bresciani ci sono state bollette inferiori alla soglia psicologica dei 1000 euro. Infatti hanno pagato mediamente 962 euro fronte di un consumo 1034 metri cubi. Chiudiamo la pagina economica con il mercato delle auto usate, che riparte a Brescia e in Lombardia. Tra le più ricercate troviamo quelle a diesel, mentre arrancano le elettriche e le ibride. Il mercato dell'auto usata riconquista i lombardi e anche i bresciani. Il 2023 si è infatti chiuso con numeri positivi per i veicoli di seconda mano, con un più 8,1% sul 2022, che significa quasi 450.000 passaggi di proprietà al netto delle minivolture. Brescia è la seconda provincia dopo Milano per passaggi di proprietà netti, 63.407, il 14,1% in più rispetto all'anno precedente. Sono numeri elaborati dall'osservatorio di Autoscout 24 su dati ACI. Ma cosa hanno cercato i lombardi nel 2023? Secondo i dati interni di Autoscout, oltre il 54% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione riguarda ancora vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 35%, mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta appena il 5,3% delle richieste totali. Se si considera il solo elettrico puro che rappresenta una quota minoritaria, a frenare la sua ascesa anche nell'usato, gli utenti segnalano la scarsa autonomia delle batterie e il costo elevato. L'auto in assoluto più ricercata nella nostra regione è la Golf, ma se si prendono in considerazione soltanto le vetture ibride ed elettriche, troviamo fra le prime la Range Rover Evoque e fra le seconde la Nissan Leaf. Suv, crossover e fuoristrada si confermano le carrozzerie più ambite, indicate dal 41% del campione. Seguono le berline, le station wagon e le city car, che salgono al 12% rispetto al 6% dell'anno scorso. Voltiamo pagina. Domenica 25 a Montirone arriva Alchimie, dove gli amari bresciani si metteranno in mostra tra eventi e degustazioni, Spacagna e Spagnoli. Che cosa troveremo ad Alchimie? Ad Alchimie troveremo finalmente il gruppo più numeroso di produttori di amari bresciani, che si è mai raccolto in un'unica manifestazione, perché Alchimiera chiude effettivamente tutti i produttori di amari, bitter ed elisir, che fanno comunque parte della stessa categoria, per la prima volta in un unico evento. E la cosa originale è che abbiamo unito i produttori di amari e i produttori di formaggi, perché tutto nasce dalle erbe, no? Le erbe spontanee danno valore ai formaggi, danno gusto ai formaggi, ma servono anche per produrre gli amari. E ci è venuta questa provocazione che poi, in effetti, dalle prime prove che abbiamo fatto, hanno suscitato delle cose molto interessanti di abbinare il formaggio agli amari. Quindi troveremo anche questa piccola provocazione in dei laboratori di degustazione che faremo appunto il 25 febbraio a Montirone. Noi appunto come ente, in appunto questi anni qua, si è cercato di mettere in mano le nostre appunto tradizioni, le nostre cose che venivano fatte di anno in anno, senza però essere sostanzialmente messe in appunto primo piano. Montirone fa parte di un sacco di cose, facendo parte della strada di vino dei Colli, però non c'è nessun tipo di vino che all'interno del nostro ente c'è e comunque viene praticamente fatto. Quindi si è chiesto com'è che si sostanzialmente può essere utili per far sì che ci sia una piccola anche sintesi e che si dia anche spazio a chi negli anni, in questi due anni, tre anni, si è visto che ci sono stati tanti produttori che sostanzialmente fanno anche vino, che hanno sostanzialmente fatto queste appunto cose qua. Quindi grazie a tutti, agli nostri anche sponsor, che sono comunque tanti, un grazie alle 28 etichette che ci hanno comunque dato una mano e che hanno detto subito comunque praticamente sì. E noi comunque siamo già pronti per l'anno comunque praticamente prossimo e pensiamo che ci sia anche una nostra cola tipica, un amaro tipico quindi deco del nostro ente, il paese di Montirone. Un evento davvero da non perdere. Da Montirone ci spostiamo ora in Marocco, dove un equipaggio bresciano è pronto a percorrere 3000 km nel deserto con, pensate, una panda 4x4 modificata. L'obiettivo è fare beneficenza ai bambini africani. La nostra avventura sarà quella di portare questo pandino per sette giorni nel deserto del Marocco partendo dal nord-est scendendo verso il sud poi spostandoci verso l'ovest e risalendo verso il nord per 3000 km. Prima volta? Prima volta in assoluto. Il bello della cosa è che si va con un'auto senza servosterzo senza cambio automatico, senza climatizzatore per cui oggi si parla sempre dell'intelligenza artificiale e qui siamo tornati proprio alle origini delle cose. Ma chi ve lo fa fare? Ma fondamentalmente abbiamo scoperto di questa cosa che ci ha dato il primo motore diciamo che ci ha fatto muovere è stata una persona che mi ha detto ma allora tu dovresti fare il panda ride perché nasce da tutto un discorso dove avevo portato una valigia di regali ai bambini nelle isole dell'oceano indiano e mi hanno detto allora dovresti fare la stessa cosa perché è una delle cose belle del panda ride che tutti portano ai bambini che contano lungo il percorso dei regali. Con che spirito partite? Non lo sappiamo non sappiamo se è paura non sappiamo se è voglia di andare con un grande punto interrogativo partiamo. San Polino è sempre in pista quando c'è da promuovere qualcosa che abbia qualcosa da che fare con la beneficenza quindi in questo caso l'amico Paolo che conosco ha chiesto un supporto per questa iniziativa che è la panda ride e che porta a beneficenza nei paesi dell'Africa lungo il loro percorso e quindi noi ci siamo subito mossi per dargli il supporto il più possibile a che questa iniziativa venga promozionata e divulgata sul territorio breciano. Il tempo scopriamo come saranno le previsioni dei prossimi giorni con gli esperti di Trebi Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto previsioni per i prossimi giorni ci sarà una svolta dopo di fatti l'alta pressione sub tropicale con aria di primavera dappertutto e lo smog a mille è stata cronaca degli ultimi giorni in pianura padana anche con un dibattito politico ora cambia tutto questo intenso sistema ha perturbato attualmente tra l'oceano le isole britanniche e la Francia sarà responsabile del maltempo che da giovedì e in vista al weekend a più riprese interesserà un po' tutta Italia andiamo a vedere con le grafiche molto chiare intanto giovedì il primo affondo al nord e sulla Toscana settentrionale nuvole piogge e neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota attesa per le restanti zone del centro sud tra l'altro con un aumento delle temperature fino a 18-19 gradi ancora temperature primaverili venerdì invece la perturbazione questo ramo frontale da nord a sud raggiungerà tutte le nostre regioni quindi anche al sud arriveranno piogge dei temporali entro fine giornata una giornata che sarà molto ventosa guardiamo la grafica raffiche di liveccio di scirocco sul tirreno sullo Ionio e sulla parte adriatica anche oltre i 50-60 km orari con mareggiate sulle coste esposte non è tutto perché il weekend il Mediterraneo sarà ancora balia di una circolazione di bassa pressione quindi nuovo rugito atlantico con altri impulsi instabili che sabato e domenica porteranno delle precipitazioni soprattutto sulle due isole maggiori e al centro-sud maggiori dettagli e approfondimenti però li trovate scaricando la nuova app di Trabi Meteo o sul nostro sito web la pagina sportiva questa sera alle 20.30 giocherà la nazionale di basket pronta ad affrontare la Turchia a Pesaro per le qualificazioni all'europeo tra i convocati Petrucelli Little Basket è pronta a tornare in campo e questa volta con un bresciano fra i convocati rispetto alle ultime uscite degli azzurri infatti il CT Gianmarco Pozzecco ha deciso di includere nella lista dei 12 convocati anche il ministro della difesa John Petrucelli l'italo americano ha già disputato cinque gare in azzurro il suo esordio risale all'amichevole con la Slovenia del 25 giugno 2022 la sua miglior prestazione in nazionale è stata nel match di qualificazione ai mondiali contro la Spagna di Scariolo il 10 novembre dello stesso anno mondiale a cui però Petrucelli non venne chiamato quella partita si era giocata a Pesaro e proprio la Vitrifrigo Arena si giocherà questa sera contro la Turchia di Ataman riparte così il cammino azzurro verso gli europei Pozzecco per questo giro di giostra ha lasciato a riposo spagnolo Bortolani e Caruso vedremo se Petrucelli sarà in grado di guadagnarsi un posto da protagonista in questa nazionale il telegiornale per il momento termina qui ma le notizie continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online livebrescia.tv dove cliccando su questo piccolo box potete guardare la diretta in streaming del nostro canale 181 24 ore su 24 per rimanere costantemente aggiornati e ricevere le notizie del territorio vi ricordo anche di seguirci sulle nostre pagine social o in alternativa di scaricare la nostra app gratuita l'appuntamento con una nuova edizione dell'informazione torna questa sera a partire dalle 19 vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata